Buongiorno a tutti, allora Ankoi compie iani, sono qua con la mia amica Trilli, sono naturalmente in officina perché anche se è un artigiano e compie iani deve lavorare, stamattina alle 7 ero 7 e mezza e ero a Mori perché avevo da fare in chnelli. Allora Ankoi mi sta arrivando una montagna di auguri, non so gli 500, 600, non so quanti chi sia. Allora mi auguro di rispondere a tutti perché per me il contatto umano con le persone, la risposta diretta è una delle cose che conta di più, conta di più del computer, conta di più del telefono, conta di più di tante cose. Però voi leggerevi una cosa che ho scritto l'anno scorso perché l'anno passato ho scritto una cosa, perché quando uno compie iani ha delle riflessioni, allora mi ho scritto, questo scrivevo l'anno passato e ripeto anche quest'anno ai giovani. L'anno passato avevo 62 anni, quest'anno erano 63 e non mi sono scorto, vuoi seder, vuoi seder, ai giovani gli dico di non molare mai, cercare di fare quel che piacerebbe fare e credere sempre che si può fargliela senza vendere mai l'anima. Guardate che non bisogna vendersi. vivere liberi le dure, ma te dà una soddisfazione impagabile di poter andare sempre con la testa alta e non avere mai paura di nessuno. Vuol dire che nella vita, perché ormai in questa società il dio denaro è una roba importante, invece non è vera, si può avere ancora dei ideali, no? Si può avere dei ideali e portarli avanti, vero Trilli? Allora, avere dei ideali vuol dire che te vai anche contro il sistema a volte, no? Perché a volte, il sistema non condivide la società che sia qualche uomo libero che può dire quel che pensa ovunque, dappertutto. Ma mi vuoi dirvelo? Perché a volte le soddisfazioni della vita sono proprio queste. La quella è di poter sempre pensare con la propria testa e dirne la propria libertà quel che si pensa. Le fadigano in una società del genere, perché vuol dire essere fuori dal sistema. Però quando ti incontri per strada la Zen che ti dice, bravo, primo, perché ne piaceria anche a noi far così. Questa è una soddisfazione unica. Allora se lo fa per tutti, per gli altri, cosa vuole che vi dica? Nella mia vita ho sempre laureato e ho solo laureato e nel mio tempo libero l'ho dedicato alla mia passione, la passione della storia, degli ideali. Perché vuoi che il Trentino sia un popolo che abbia degli ideali? Perché se esiste la difesa di un'identità, l'identità non vuol dire separazione. L'identità vuol dire la bellezza del mondo, la diversità, perché se noi difendermi l'identità vuol dire che volermi difendergli la diversità nel mondo, che è la bellezza del mondo la diversità. Ogni popolo, ogni cultura, ogni storia, ogni tradizione le va difese, perché quando saremmo tutti dei zombie, dei uomini piatti senza idee, avremmo finito, il mondo è finito. Allora finché esiste chi difende l'identità, avremmo la possibilità di avere un mondo diverso. Crede a me. E ti dà tantissima soddisfazione. Fadiga, perché tanti metti i soldi, il primo obiettivo della vita. D'accordo, i soldi dà la tranquillità, la soddisfazione, ma i soldi nella tomba non si porta mai. Resta qua. E allora bisogna avere qualche ideale, avere qualcosa da fare nella vita e difendersi. Vero Trilli? La mia amica Trilli, questo è un cagnolino, perché nella vita, chi piace anche agli animali, capisci, gli animali, gli intelligenti. Il cane non ha mai tradito l'uomo, l'è l'uomo che ha tradito il cane, è diverso. Allora, ragazzi, sveglia, forza e coraggio, non stai far ben tontire dai telefonini, non stai far ben tontire dalle droghe che vende. Quando ero partito da zoven, mi sa sedese a 17 anni e mi mantinevo da soli, vivevo da soli. Però avevo una fortuna nella vita, che a me papà mi aveva insegnato ad amare lo sport e nello sport dovevo rispettare il mio fisico. Per rispettare il fisico vuol dire che non sono caduto nel tranello che la società vuole d'entontirvi, zoveni, con la droga e d'entontirvi con tante altre robe. Allora, ancora il mio compleanno. E sono abbastanza contento, anche se vedo che la fadiga è portare avanti certe idee, però la speranza è l'ultima a morire, e non credo. E, vero Tridli? Grazie a tutti i miei figli, perché i miei figli, le bravi ragazzi, è cresciuti bene. Grazie a mia moglie, grazie a tutti gli amici. Gli auguri che mi arriva anche oggi mi crea un entusiasmo incredibile, devo essere sincero. Sono veramente felice. Non pensavo di avere tanti amici e questo mi fa piacere perché mi fa venire voglia di combattere e venire avanti con le mie idee. Ciao a tutti, io sono Tirole e mi sono Tirolese, e io sono un buon dialetto. Salve Tridli, salve ragazzi! Salve Tridli, salve ragazzi! Grazie!